Napoleone Bonaparte nacque ad Aiaccio il 15 agosto del 1769. Il 22 ottobre del 1784 lasciò la scuola militare di Brienne con grado di cadetto. Nel settembre del 1785 fu promosso sto tenente. Nel 1793 fu promosso generale. Nel 1799 fu promosso primo console. Nel 1804 si promosse imperatore. Nel 1805 si promosse re d'Italia. E chi non ricorderà tutte queste date sarà bocciato. C'era una volta un imperatore si chiamava Napoleone. E quando non aveva torto di sicuro aveva ragione Napoleone. Napoleone era fatto così. Se diceva di no, non diceva di sì. Quando andava di là, non veniva di qua. Se scaviva lassù, non scendeva qua giù. Se correva in lato, non faceva il caffè. Se mangiava di niente, non contava perché. Se diceva di no, non diceva di sì. Napoleone andava a cavallo e la gente lo stava a vedere. E quando non andava a piedi, era proprio un cavaliere Napoleone. Napoleone era fatto così. Se diceva di no, non diceva di sì. Quando andava di là, non veniva di qua. Se cascava di lì, non cascava di sì. Se passerà tutto, non diceva però. Quando apriva l'ombra, non chiudeva il pomo. Se diceva di sì, non diceva di no. Di tutti gli uomini della terra, Napoleone era il più potente. E quando...